Interphone Tour ha la speciale funzione FM Mix che ti permette di ascoltare la radio FM in sottofondo durante una conversazione con un altro interfono. Accendi entrambi gli interphone. Premi il tasto intercom solo su uno dei due. Le due unità saranno così in comunicazione. Premi il tasto FM per attivare la radio in sottofondo. Con i tasti su e giù scegli la frequenza desiderata. Per disattivare la radio in sottofondo premi nuovamente il tasto FM.